Presidente, cosa significa essere diversamente grandi? Bella domanda, bravo. Diversamente grandi significa evidentemente essere dimensionalmente, da un punto di vista quantitativo, più piccoli di altri, ma non essere necessariamente qualitativamente più piccoli di altri. Senza alcun riferimento politico, voi siete una banca 5 stelle? Siamo una banca 5 stelle, ci ha attribuito la Quinta Stelle, Altro Consumo, associazione di consumatori molto rigorosa, che in base a determinati parametri di solidità, di redditività e di patrimonializzazione della banca, ha voluto attribuire la Quinta Stelle in base a dei parametri oggettivi disumibili dal nostro bilancio. Cosa significa? È grazie alle grandi banche che noi siamo territorialmente importanti. Quando c'è stata la fusione tra la Chrysler e la Fiat, all'epoca di Marchionne, queste operazioni sono state sostenute dalle grandi banche. Perché la grande banca è stata indispensabile? Perché quell'operazione ha consentito, per esempio, allo stabilimento Fiat di Cassino, Gistellantis, di avere un rilancio. E attraverso quei rilancio ci sono state tante piccole imprese che hanno lavorato per Fiat e quelle sì le abbiamo finanziate noi, come banca di territorio e altre banche di territorio, siamo anche alle banche grandi. Presidente, si fa banca anche con un caffè e una fetta di panettone? Assolutamente sì. E quello che avete fatto a Natale con i pensionati che volevano ritirare la pensione? Esattamente. Allora, noi dovremmo recuperare un po' di semplicità, Alessio. Se io vado in banca e vedo una persona che sta lì spaisata e non sa dove deve andare, sono il Presidente, mi viene, non perché sono il Presidente, perché penso di essere una persona educata, perché mio papà mi ha insegnato questi valori. Dico, scusi, lei dove deve andare? La posso accompagnare? Quello mi considera un eroe perché dice, guarda, il Presidente mi ha accolto, si offre un caffè. E questa cosa, lo sai che non mi fa tanto piacere, perché una roba che io considero normale, gli altri la considerano eccezionale, allora significa che altrove, in altri contesti, qual è il rapporto umano che io metto al centro di ogni cosa? Una cosa mi piace avere come rapporto di lavoro e rapporto umano, essere semplice, parlare chiaro e a volte dire anche cose non gradite all'interlocutore, ma sincere. Ecco, questo è il nuovo modo di fare banca.